Ho aggiunto questo successo a quello di pochi giorni fa, quando è stato arrestato praticamente per la quasi vaganza del reato un ragazzo che aveva ucciso, un altro giovane ragazzo per questionamenti banali e futili. Ma questa operazione di oggi è particolarmente importante perché la legalità si afferma anche attraverso il controllo del territorio, il costante e il controllo del territorio. In questo lato di carattere è particolarmente valida, ha delle eccellenze assolute e questa operazione lo conferma, di avere la possibilità in una realtà difficilissima come quella di Favara che è connotata dalla presenza di ben due sporche organizzazioni criminali ma anche da una serie di organizzazioni, uniche organizzazioni in tempi carabari traffici con qualche distruzione a altri traffici illeciti. In questa realtà la presenza dello Stato attraverso l'arma dei carabinieri con indagini che sono di tipo classico, quelle che nascono sul territorio, che nascono sul controllo del territorio.